Raccontare la storia delle famiglie delle valli Susa e Sangone tra 8 e 900 attraverso l'arte del cucito. Questa è la proposta del libro Aghi, fili e racconti presentato a Palazzo Lascaris. La pubblicazione è curata dall'Università della Terza Età di Sant'Antonino di Susa e frutto di sei anni di lavoro che ha coinvolto associazioni e istituti culturali del territorio, il Museo Nazionale di Arti e Tradizioni Popolari di Roma e la soprintendenza ai beni storici e artistici e antropologici. Un progetto nato nel 2008 con lo scopo di censire e poi valorizzare i manufatti delle arti d'ago sul territorio dell'arco alpino che sono i territori sui quali il censimento è stato effettuato. Nell'arco degli anni sono stati censiti 1.086 manufatti, sono state intervistate 101 persone e sono 3.000 gli scatti fotografici realizzati. È un patrimonio il cui periodo va dal 1850 al 1950, quindi un arco temporale più o meno di un secolo.